L'obiettivo è dichiarato porre termine alla presidenza lunga ben 15 anni dell'attuale numero 1 dell'Ordine dei Medici di Teramo, Cosimo Napoletano. Etica e rinnovamento sono le parole d'ordine della lista guidata da Filippo Gianfelice, chirurgo vascolare e componente della Direzione Nazionale della Nao Assomed, che si candida alle elezioni dell'Ordine che conta circa 2000 iscritti in provincia di Teramo. Nella nostra lista ci sono 5 medici che hanno meno di 40 anni e persone poi anche più esperte che serviranno anche per traghettare seguendo quelli che sono i cani della nuova legge che regola appunto gli ordini in Italia. Noi siamo certi della necessità di portare avanti un discorso di professionalità per il medico, di rispetto del medico, di rispetto dell'atto medico. Tra gli obiettivi della lista il miglioramento delle cure dei pazienti attraverso una maggiore integrazione ospedale-territorio e la sicurezza degli operatori sanitari. Ma anche vogliamo portare avanti alcuni processi quali per esempio stimolare essere dalla parte dell'organizzazione di un nuovo rapporto fra medicina del territorio e medicina generale, un'integrazione ospedale-territorio che è necessaria per la cura del cittadino. Proponiamo anche, portiamo avanti anche un altro discorso, la sensibilizzazione dei cittadini contro la violenza di genere e contro la violenza verso gli operatori sanitari. Portiamo avanti anche un discorso di aggiornamento culturale, aggiornamento di essere gratuito e quindi portarlo avanti per tutti. Insomma portiamo diverse idee avanti e speriamo che vengano accolte.